Ce ne sarà per tutti i gusti, dal pesce alla polenta, dal tortellino al riso, per gli inossidabili della pasta a basse di grano, ma anche per gli intolleranti al glutine in una kermesse che per quattro giorni farà di Foligno la capitale del buon e del bel mangiare. Si parte domani alle ore 19 per la diciannovesima edizione dei primi d'Italia, con l'inaugurazione attesa in piazza della Repubblica, alla presenza tra gli altri di sua eccellenza l'ambasciatore di Israele in Italia, Offer Sax, paese a cui la manifestazione offre quest'anno una vetrina importante. 13 villaggi del gusto allestiti, ciascuno incentrato su una specialità tra i quali spicca quello del pesce, gestito da 7 ristoratori di Porto Sant'Elpidio per rinnovare il sudalizio tra Foligno e la costa adriatica, apertosi con la nuova direttrice Valdichienti. Gli altri villaggi proporranno riso e tortello mantovano, tipicità locali, gluten free e polenta, amatriciana, erbette selvatiche, tartufo, gnocchetti fatti a mano, cucina ebraica, pasta fresca e ripiena, eccellenze siciliane e casa Vissani. Quanto al programma, domani si inizia già alle 16 con un giorno in campagna, i maccheroni al sugo d'oca e si prosegue alle 18 con cuochi a puntino, Non ci pasta mai, firmato dall'Università dei Sapori. Sul palco del festival, il largo Carducci, dopo il saluto dell'autorità alle 19, si prosegue con sano vegano italiano, la presentazione del libro di Chiara e Red Canzian. Alle 22 arriva invece Francesca Reggiani, con tutta la sua ironia sul fronte della convegnistica, sempre domani alle 16, nella taverna del Rione Pugilli, a tavola con il diabete, e si prosegue alle 18, al ridotto dell'auditorium di San Domenico, con il nuovissimo format, un pizzico di salute, a cura di Informa. Da venerdì comincia anche a tavola con le stelle, con i menù dei grandi cuochi stellati della guida Michelin. Torna i ritmi d'Italia Junior, lo spazio formato baby, dove tra gioco e animazione, i piccoli impareranno tante informazioni utili a sviluppare sane abitudini alimentari. L'attività, promossa e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, è realizzata grazie all'Università dei Sapori e in collaborazione con il Comune di Foligno, la FIDA, Federazione Italiana dei Taglianti Alimentari e la Missa di Corde di Assisi, si svolge ogni giorno nel Chiostro di San Domenico. E ancora la boutique della pasta di Palazzo Trinci, le eccellenze del gusto di Piazza Matteotti, il mercato delle tipicità locali di Palazzo Candiotti, domenica 1 ottobre, giorno conclusivo delle festival nazionali dei primi piatti, atletica winner Foligno promuove ancora una volta la grande mezza maratona dei primi d'Italia, la gara agonistica nazionale di 21,97 chilometri, che partirà direttamente dal cuore della manifestazione. Il raduno comincerà alle 8, da non dimenticare la cena di beneficenza di questa sera presso l'ex chiesa dell'Annunziata e il bellissimo musical Jekyll e Hyde, realizzato dalla compagnia tatrale ULBC alle 21.45 di venerdì 29 settembre presso l'auditorium di San Domenico. Parte dei proventi andrà alla Fondazione Chianelli.